Caso Covid nelle scuole di Sant'Arsenio e il sindaco dispone la chiusura dei plessi per consentire le attività di sanificazione degli ambienti per l'adozione di ogni misura atta prevenire ogni possibile caso di diffusione del contagio da Covid-19. Nella giornata di ieri è stata accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di una docente delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Sant'Arsenio a seguito comunicazione giunta al protocollo del Comune nella giornata di ieri dall'Asl di Salerno. Un caso di contagio che ha reso indispensabile è l'adozione delle previste misure per il contenimento del contagio con il primo cittadino che ha disposto la chiusura del plesso scolastico di Sant'Arsenio per quattro giorni a partire da oggi e fino a venerdì 18 dicembre con lo stop alle attività didattiche in presenza anche per le classi prima e seconda che al momento risultavano le sole a cui la regione Campania aveva aperto le lezioni in classe. Tutto si ferma nuovamente anche se solo per pochi giorni al fine di consentire l'attuazione di tutte le misure e impedire la diffusione dei contagi partendo dalla sanificazione degli ambienti scolastici in via precauzionale e prudenziale. Operazioni che per essere efficaci richiedono tempi di attuazione lunghi data la necessità di sanificare tutti gli ambienti utilizzati dalla persona risultata positiva al covid, la successiva reazione dei locali e attività di pulizia e disinfezione generale. Intanto a Sala Consilina l'Istituto Camera ha disposto da ieri la riattivazione della didattica a distanza per tutti i bambini che non frequentano le lezioni in classe dopo le numerose assenze che si sono registrate sin dal giorno della riapertura delle scuole per le prime due classi delle primarie. Seguendo così quanto già disposto dall'Istituto Comprensivo Sala Consilina Viscigliete che seppur con un numero decisamente più esiguo di assenze aveva comunque previsto il prosieguo della DAD per venire incontro alle famiglie che per maggiore sicurezza e prudenza avevano deciso di non mandare i propri figli a scuola. Una forma di didattica che secondo quanto ipotizzato dal dottor Pregliasco in un'intervista rilasciata al quotidiano il mattino potrebbe proseguire anche nei prossimi mesi e quindi anche dopo le festività natalizie se la curva dei contagi non si attenua in maniera decisa cosa che al momento secondo il virologo sarebbe difficile da ipotizzare.